Sì. Eh, ridimmi dai. Perché? Sono venuto qua. Eh. Entrare dentro per chiamare. Eh, hai salutato lui e un'altra persona. No, io non ho salutato lui. Hai salutato loro. Loro chi? Tu amico. Tu qual è? Ma come è suo amico? No, amico, no. Va bene, un suo amico. Va bene, va bene, va bene, calma, calma. Poi? Era insieme con lui. Poi? Ho salutato loro, loro, dopo insieme con lui, sono entrato. Eh. Lui è entrato, io a Medinawo mi ho preso il pisello. Ti ha preso il pisello? Sì, perché non mi sento. E come ha fatto? Io mi... Una magia? Sì, la magia, ecco qua. La magia. Va bene. Va bene. Va bene. Sono detto, tu conosci lui, tuo amico? Mi ha detto, mio amico è proprio maligno. Eh? Sì, dopo sono andato, poi torno, ho detto, dove tu amico? Mi ha detto, a casa. Ho detto, andiamo a casa di lui. Lui ha detto, no, no, tuo amico? Mi ha detto, no, no. Adesso, prima di chiamare voi, prima di andare, andate. Sì. Come deve venire voi? Sì. Lui mi ha detto, prendiamo il bit e poi andiamo da lui. Invece, loro mi ha detto, fermo, fermo, non puoi andare, lascia qua. Aspetta quando arriva per venire. Allora, tu non ti preoccupare. Quindi questo, che ha fatto? Ti ha rubato il pisello? Sì. Non ti preoccupare. Mi ha rubato il pisello. E come te ne sei accorto? Tu non te lo faccio vedere? No, non vuole vedere il mio pisello. Non ce l'hai? Che devi vedere? Se non ce l'hai, che puoi vedere? Come non funziona? Secondo te? Non ce lo pisello. Voi ragazzo lì, non capisci l'italiano. Lui, io ho parlato con lui in francese. Lui mi ha detto che quando c'è un problema, lui sempre va con il suo patrone. Allora, facciamo una cosa. Io l'ho detto, aspetta ai carabinieri, prima che arriva. Bravo, temati carabinieri. Allora, aspettiamo. Allora, domani mattina, vieni in caserma. Può darsi che tra oggi e domani il pisello ricompare di nuovo. Se non coprare di nuovo... Se ricompare il pisello, amici come prima. Altrimenti viene a fare la denuncia che ti hanno rubato il pisello. La denuncia di smarrimento devi fare. Ma adesso è piccolo piccolo. Sì, sì. E vabbè, può darsi che cresce dopo. Se non vengo, se no domani... Vabbè, dai. Adesso me lo...